Forconi in protesta oggi e domani in diversi comuni siciliani, una battaglia a difesa degli agricoltori locali e del Made in Italy. Se non giungeranno risposte si tornerà al 2012. Da Catania a Ragusa in autobus con nella borsa oltre 700 grammi di cocaina purissima, arrestata dalla polizia una donna albanese. 24 euro andate in ritorno, tanto potrebbe costare il pedaggio per andare a Catania e tornare. Prezzi folli per il Movimento 5 Stelle servono soluzioni alternative. Acqua ancora inquinata a Ragusa e cittadini nel caos, i riservizi si trasformano in scontro politico per l'opposizione, l'allarme è stato lanciato tardi e male. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG 74. Lo avete sentito dai titoli. In apertura alla protesta al Via da oggi da parte del Movimento, i Forconi, manifestazioni a Vittoria, Gela, Pachino e Niscemi contro la globalizzazione e a difesa del Made in Italy. Se nulla dovesse cambiare, afferma il leader del Movimento, i Forconi, Mariano Ferro, si passerà a proteste ben più eclatanti come accade nel 2012. Tornano i presidi dei Forconi, così come era stato già annunciato nei giorni scorsi e precisamente dopo l'incontro tra il leader dei Forconi, Mariano Ferro, e gli agricoltori di Niscemi, al Via da oggi presidi a difesa dell'agricoltura siciliana e del Made in Italy. Manifestazioni dalle 7 di questa mattina, Pachino, Vittoria, Gela e sui Nebrodi. Per Mariano Ferro non è una semplice crisi agricola, è l'effetto della globalizzazione che non lascia speranze ai piccoli agricoltori locali. Le grandi aziende stracciano il Made in Italy per immettere nel mercato prodotti esteri a prezzi decisamente minori. Oggi proteste anche davanti al mercato ortofrutticolo di Vittoria, teatro principale di quanto sta avvenendo, prodotti esteri provenienti da Egitto, Marocco e Tunisia venduto al posto di quelli locali, mentre il latte siciliano si versa in strada così come la carne, la lana, l'arancia rossa etnea e molto altro. A spiegare motivazioni ed obiettivi, il leader dei Forconi, Mariano Ferro. Allora, gli agricoltori siciliani non ce la fanno più, non è una novità. E' una cosa che dura da anni. Purtroppo le soluzioni sono equivalenti a zero. Non interessa a nessuno quello che accade in questi territori, se parliamo di pignoramenti, esecuzioni immobiliari, che sono la conseguenza del fatto che non ce la fanno più. Non interessa a nessuno quello che sta accadendo, perché forse c'è una novità in questo panorama politico. Abbiamo un governo che parla di Made in Italy, prima gli italiani, insomma un certo sovranismo anche dal punto di vista alimentare, se vogliamo. Vogliamo verificare se quello che è stato detto in questi mesi di campagna elettorale, in questi mesi di governo, se questo che è stato detto è vero. Con il centro-sinistra forse non avevamo nessuna speranza, perché stiamo parlando di gente europeista, globalisti, che hanno la voglia di stare con le industrie, con le banche. Questo hanno dimostrato. Ora vogliamo verificare se questo governo è vero o è finto. Questo vogliamo capire. Ecco perché diciamo, c'è questa novità che ci mette in moto, nella regione siciliana voglio dire, non abbiamo bisogno, perché l'esperienza ci dice che tutti i tavoli che sono stati fatti sono evaporati, svaniti nel nulla. E quindi ecco perché diciamo a questi agricoltori, forse è il momento di ritornare in campo e capire che cosa succede. Abbiamo dato una scadenza a questo governo, l'abbiamo data, non lo so se può essere credibile o meno, ma la verità è una, che sta da qui alle europee, non succede nulla. Io dico che dobbiamo rimettere in moto tutta la Sicilia, andiamo a chiamare gli operatori del grano, gli operatori del latte, gli operatori della piana di Catania, con le arance. C'è un mondo al contrario, dobbiamo rimetterlo tutto insieme per vedere di fare un'operazione unica. Non è problemi diversi, sono problemi uguali, si chiama globalizzazione e importazioni israeli che arrivano dall'estero. E adesso la cronaca con la droga che viaggia anche sugli autobus. È un dato di fatto confermato anche dalla recente operazione da parte della polizia, proprio ieri a Ragusa, una donna albanese bloccata appena scesa dall'autobus con oltre 700 grammi di cocaina purissima per un valore complessivo di circa 50.000 euro. Sentite. Non è la prima volta che la droga a Ragusa arriva tramite autobus, un canale spesso utilizzato dai corrieri della droga per piazzare sul mercato ibleo sostanze stupefacenti provenienti da altre città, in questo caso da Catania. È dal capoluogo etneo che infatti era partito l'autobus diretto a Ragusa e sul quale viaggiava anche una donna incensurata albanese di 33 anni. Lei, così come tante altre persone, è stata fermata ieri dagli agenti della sezione narcotici della squadra mobile che attendevano l'arrivo dell'autobus pronti per i controlli di routine. Appena bloccata, ha immediatamente iniziato a piangere. Una disperazione ingiustificata che ha insospettito gli agenti. Alla richiesta dei documenti, sia lei che un altro albanese appena sceso dall'autobus sono risultati sprovvisti del premesso di soggiorno in Italia e quindi accompagnati in questura. La donna, che non conosceva l'altro uomo albanese, intanto continuava a piangere, dimostrandosi anche molto attaccata alla propria borsa che abbracciava con vistosa attenzione. È stato proprio in un vano nascosto della borsa che gli agenti hanno trovato due involucri di grosse dimensioni nascosti in un sottofondo ricavato artigianalmente dalla donna. Si tratta di oltre 700 grammi di cocaina purissima per un valore sul mercato della droga stimato in circa 50.000 euro. Per questo la squadra mobile ha proceduto all'arresto della donna e al successivo accompagnamento all'interno del carcere femminile di Catania, così come disposto dalla procura della Repubblica di Ragusa. L'albanese, dopo la detenzione in carcere, verrà espulsa dall'Italia per fare ritorno in Albania, così come è previsto dalle norme vigenti. Ed ancora cronaca, rissa all'esterno di una discoteca di Vittoria, tre romeni denunciati dalla polizia e il bilancio di quanto svolto dagli agenti dopo l'arrivo all'ospedale Guzzardi di Vittoria di un giovane romeno con ferite da taglio al torace. Solo dopo estese indagini si è riusciti a stabilire che il 28enne era rimasto ferito in una rissa, nata per furili motivi, che aveva coinvolto altre due persone. I fatti si sono registrati lo scorso 24 febbraio all'uscita di una nota discoteca di Vittoria. I tre sono stati denunciati per il reato di rissa gravata. E adesso torniamo a parlare del raddoppio della Ragusa Catania. Lavori ancora una volta bloccati da parte del Cipe per via delle tariffe al pedaggio sull'argomento anche il deputato Ibleo Stefania Campo che afferma inespiegabile pensare di poter pagare 24 euro al casello per andata. E ritorno, sentite. Un pedaggio eccessivamente esoso è quello che i cittadini sarebbero costretti a sborsare per percorrere la statale 514 che collega Ragusa a Catania. Ammonterebbe infatti a 24 euro andata e ritorno per percorrere solo 68 chilometri, tariffa chiaramente sproporzionata rispetto ad altre autostrade simili. Ad intervenire il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo che mette in luce la problematica anche in virtù delle ultime notizie che riguardano proprio il raddoppio di questa infrastruttura. Quest'idea folle, come la definisce la stessa Campo, di far pagare un pedaggio così caro ha anche l'aggravante di chiudere ancora di più la porta d'ingresso della nostra provincia ai turisti oltre al fatto che danneggerebbe gravissimamente la nostra economia e tutti i soggetti che utilizzano costantemente la Ragusa a Catania. Per esempio, se venisse applicata la tariffa attuale prevista sulla Messina-Palermo la percorrenza sulla Ragusa-Catania costerebbe appena 4,6 euro, invece 4,7 euro se si applicasse una tariffa nazionale come quella dell'autostrada del Brennero, appena 4,8 euro al massimo se venisse applicata la tariffa della 4, ovvero dell'autostrada serenissima. Quindi perché i siciliani e i turisti dovrebbero pagare 12 euro all'andata e 12 al ritorno per percorrere la Ragusa-Catania? Perché un cittadino del nord o del centro, lo stesso numero di chilometri o stradali, riesce a pagarli per meno della metà del nostro importo? Ma i problemi non finiscono qui, continua il deputato Ibleo, perché applicando questo tipo di tariffa il governo siciliano potrebbe inaccorrere in sanzioni e richiami da parte dell'Unione Europea e soprattutto potrebbe accadere che i fruitori dell'arteria diminuirebbero drasticamente creando un danno alla Sark che potrebbe rischiare il fallimento. Ad aprile, conclude la Campo, ci sarà la prossima riunione del Cipe e in quell'occasione la Ragusa-Catania sarà nuovamente all'ordine del giorno. Intanto si stanno approntando delle soluzioni alternative a quelle attuali in maniera da non far gravare i costi sui cittadini. Pozzallo, l'unico comune della provincia di Ragusa ad aver ottenuto il finanziamento statale per la videosorveglianza. A darne notizia è il sindaco Roberto Ammatuna. Erano 428, infatti, sistemi di videosorveglianza da realizzare in altrettanti comuni italiani. Finanziati per un importo complessivo di 37 milioni di euro per il triennio 2017-19. Il progetto, finanziato per un importo complessivo di circa 160 mila euro prevede 40 telecamere più due a lettura a targhe da installare in edifici pubblici, comprese le scuole e gli ingressi della città. La centrale operativa, già installata al comando provinciale della Polizia Municipale entrerà in funzione insieme alle telecamere. Pozzallo potrà quindi fruire di un sistema che darà maggiore sicurezza ai cittadini e contrasterà anche i fenomeni di vandalismo. Ancora disagi e polemiche a Ragusa per via dell'acqua non potabile in moltissime zone della città. Interessata dal divieto anche la zona del nuovo ospedale. L'opposizione intanto critica i tempi e i mezzi utilizzati dall'amministrazione per informare i cittadini. Il maltempo dei giorni scorsi continua ad arrecare danni e disservizi, questa volta di natura ben diversa. Si tratta infatti di disservizi idrici in un'ampia area di Ragusa superiore, Ragusa-Ibla. La pioggia torrenziale ha infatti intorbidito le acque dell'impianto di sollevamento San Leonardo, costringendo il primo cittadino, Peppe Cassì, ad emanare un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua a scopi potabili. Un problema più grave del previsto e sul quale ancora non si conosce una probabile data di ritorno alla normalità. E' proprio sui social, oltre che sul sito ufficiale del comune di Ragusa, che il sindaco informa la cittadinanza sull'attuale stato dei lavori all'interno dell'impianto di San Leonardo, affermando che i tecnici sono in questo momento al lavoro per risolvere il problema. Intanto moltissime le zone interessate dall'ordinanza sindacale. Attualmente si tratta di San Luigi, Brucet, Punta Razzi, Cisternazzi, Contrada Annunziata e Ragusa Ovest. Tra questi anche il nuovo ospedale Giovanni Paolo II, con i disagi facilmente immaginabili. Intanto nelle scorse ore i tecnici dell'ASP7 si sono già recati nella zona di San Leonardo per prelevare campioni d'acqua utili a stabilire il grado di inquinamento. Solo recentemente si è appreso che le analisi hanno mostrato valori fuori norma che comprometterebbero la salubrità dell'acqua. La situazione resterà sotto controllo anche nelle prossime ore e qualsiasi nuova notizia sarà immediatamente diramata alla cittadinanza. Quello che è certo è che quanto registrato in queste ore subito dopo l'ordinanza ha già creato diversi di servizi a migliaia di cittadini. Per questo sempre dal comune informano che sono già attive delle autobotti in via Falcone, via Berlinguer e via Caggini nei pressi dell'oratorio salesiano. Quello che preoccupa ancora è che ha fatto intervenire i consiglieri d'opposizione e il ritardo con cui è stato lanciato l'allarme ritardo che si spera non abbia provocato danni alla cittadinanza polemiche anche sul mezzo utilizzato per diramare l'allarme, ovvero i social. Per l'opposizione i social non rappresentano un mezzo sicuro che possa raggiungere l'intera cittadinanza. Basti pensare agli anziani oppure ai cittadini stranieri che non utilizzano in modo così massiccio la nuova tecnologia. E' sempre polemiche, sempre a Ragusa e sempre all'interno del Consiglio Comunale anche sul caso dei lavoratori del servizio pulizia immobili comunali. Lavorano troppo e vengono pagati troppo poco. Intanto il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale, Zara Federico denuncia la totale indifferenza da parte dell'amministrazione nei loro confronti. Sentite. Il 14 gennaio scorso la CISAL di Ragusa ha richiesto un incontro alla sindaco di Ragusa e alla dirigente del primo settore per chiedere la tutela dei lavoratori che sono attualmente utilizzati dalla ditta Riso di Messina, affidataria del servizio fino al prossimo 31 marzo. Il comune di Ragusa dopo quasi due mesi non ha ancora convocato il sindacato e ieri sera durante il Consiglio Comunale il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Zara Federico, ha denunciato i fatti. Non si capiscono le ragioni per cui il sindaco, che tanto si vanta di confrontarsi sempre con i cittadini, rifiuti un incontro ai lavoratori e ai sindacati che li rappresentano del servizio pulizia immobili. L'oggetto del contendere, ha spiegato Federico, ha a che vedere con la procedura di gara ancora in itinere e il cui bando, seppur richiamando le norme contenute dal contratto nazionale di categoria, presenta una serie di problematiche che potrebbero nuocere ai lavoratori utilizzati. Ad esempio, le giornate lavorative previste nel nuovo bando sono fissate in 300 all'anno, mentre oggi i dipendenti ne fanno 320, cioè 80 ore mensili. Questo significa che il personale, dal momento in cui sarà giudicata la nuova gara d'appalto, riceverà in un anno una mensilità in meno. E quindi si rischia di aumentare la già precaria situazione dei dipendenti che si occupano della pulizia degli immobili comunali. I sindacati, inoltre, aggiungono che l'aumento delle superfici da pulire, già ben oltre quello che stabilisce la normativa, causerà un aumento dello stress psicofisico e una ovvia e inevitabile riduzione drastica della sicurezza sul posto di lavoro. Come se non bastasse, prosegue Federico, il Comune ha deciso di affidare all'attuale ditta una proroga ulteriore, nonostante l'azienda debba ancora corrispondere le mensilità di gennaio 2019 al personale, pur a fronte di un contratto che rasenta la precarietà e che non sia in grado a oggi di presentare la documentazione necessaria affinché il Comune provveda al pagamento della relativa fattura. Ecco perché, proprio per la situazione di disagio che i lavoratori stanno vivendo, era stato richiesto un incontro al primo cittadino, proprio con l'obiettivo di specificare nel dettaglio tutte queste problematiche. Restiamo sempre a Ragusa, ma parliamo adesso della motorizzazione. L'ente è attualmente afflitto da gravi problemi, tuttavia continua a puntare sulla formazione. Sentite. Il Consorzio Autoscuole di Ragusa è in prima linea per sensibilizzare i giovani a una guida attenta e sicura. Realizza infatti incontri nelle scuole e organizza anche corsi per tutti quei cittadini che hanno raggiunto una certa età e che hanno bisogno di corsi di aggiornamento. La nostra associazione promuove sia in campo nazionale che locale l'educazione statale presso le scuole, presso i giovani, perché oggi è un grosso problema dei giovani alla guida. Noi lo facciamo come singola autoscuola, come consorzio e come associazione, perché portiamo nelle scuole un'iniziativa particolare che si chiama Adotta una scuola. Quindi ogni autoscuola si rega presso una scuola pubblica e propone di fare dei mini corsi di educazione stradale. Si occupa di dialogare con le istituzioni per affrontare i problemi della categoria come autoscuole, della categoria come studi di consulenza automobilistica, di portare avanti le problematiche perché siamo sempre in evoluzione. Il codice della strada è in evoluzione, le leggi sono sempre nuove, quindi portano presso i tavoli istituzionali le problematiche del sociale per cercare delle soluzioni comuni. Abbiamo ottimi rapporti con l'ufficio provinciale motorizzazione. L'ufficio da anni ha una grande carenza di personale dovuta ai pensionamenti, perché molte persone sono andate in pensione e non sono state rimpiazzate. Qualche anno fa, due o tre anni fa, sono venute persone da altri uffici che, devo dire, si stanno comportando egregiamente. L'assessorato ci sta dando una grande mano inviando anche personale da fuori. Malgrado dunque queste inadempienze, sente la necessità di fare un plauso all'assessorato regionale della motorizzazione che ha dato l'abilitazione ultimamente a due nuovi istruttori, al fine di snellire le numerose pratiche di cui ha obberato. Intanto c'è una carenza di personale notevolissima e non mi riferisco soltanto ai funzionari, agli istruttori, ma anche al personale A e B. fortunatamente questo personale, anche se è dimensionato, demanzionato, perché ha delle mansioni inferiori, però riesce a portare avanti le esigenze dell'ufficio. Fortunatamente abbiamo anche una ottima direzione, perché in questo ufficio il direttore, non è che fa soltanto il direttore, fa il direttore, il funzionario, il dirigente e a volte anche il collaboratore, quindi fa un po' di tutto, come per esempio anche noi funzionari o il personale A e B, il personale A e B che non si limita a fare le mansioni proprie, ma fa veramente mansioni superiore. E adesso prima di chiudere qualche appuntamento, tre spettacoli di altissimo livello per il Teatro Garibaldi di Modica, eventi tra prosa e musica che vedranno a alternarsi artisti di fama nazionale, si inizia già da lunedì prossimo, 11 marzo alle 21 con Colpo di Scena, l'ultima commedia di Carlo Bucci Rosso, si continua domenica 17 marzo alle 17.30 con la messa in scena dei Promessi Sposi, un evento con 3 da 3 performer sul palcoscenico, infine martedì 19 marzo alle 21 il grande teatro della compagnia Luca De Filippo con l'opera Questi Fantasmi di Edoardo De Filippo. L'Anfas di Modica per celebrare i suoi primi 20 anni di attività sul territorio sta organizzando un cortometraggio che consentirà di ripercorrere la vita di Anfas attraverso lo sguardo di quelli che sono sempre stati i protagonisti dell'associazione, i ragazzi con disabilità che frequentano il centro. Inoltre per essere pronti al primo Ciac, l'Anfas è in cerca di due volontari, un bimbo ed una bimba di età compresa, fra i 6 e i 10 anni. I casting si terranno sabato 16 marzo dalle 9.30 alle 13 nei locali dell'Anfas di Modica. Bene, questo è tutto, non ci sono aggiornamenti, quindi l'appuntamento è con le prossime edizioni. Grazie di averci.